domani tutto bene domani si parte ritrovo alle 8 e 15 a casa galloni 8 e 30 al bar con inserto incorporato e saremo pronti dopo la colazione a partire fare una mega vacanza dei laghi della lombardia per tre giorni consecutivi no ti prego l'inserto devi portarlo va bene ragazzi questo è solo l'inizio poi vedremo a Grazie a tutti 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 Vediamo questa bellissima camera d'albergo Grand Hotel Liberty Grazie a tutti Vediamo come si comporta il piccolino di casa DJI Grazie a tutti 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 No ma la cascata era asciutta Asciuttissima Proprio asciuttissima Lago di ledro L'uomo col cappello bagnato Inche è lui Il riduce delle cascate La prima tappa di oggi Lago di Ledro Verso l'Iseo Il riduce delle cascate Il riduce delle cascate Il riduce delle cascate C'è una cena all'overe Vista moto Ultimo giorno Siamo pronti ragazzi, partenza per l'ultimo giorno Dove si va? Al Punto Tibetano In Tibet? Sì Minchia è lunga, sarà lunga ragazzi Le bimbe a posto Io devo andare in giro con sta gente, vi rendete conto? Ragazzi, sosta in Valtartano, ponte nel cielo Quattordici gradi e pioggia Incredibile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti